Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video vi spiego come risolvere gli errori di Rocket League che non si avvia ogni volta che andiamo ad aprirlo quindi in questo caso voi fateci un attimo un click sopra perché andrà a creare una cartella nei documenti che ci servirà per questo passaggio che poi ti farò vedere che devi fare quindi in questo caso tu vai su system information ti porterà sulla configurazione cioè ti porterà proprio su le informazioni del sistema proprio tutto quello che c'hai nel tuo pc i componenti software hardware tutto quindi in questo caso tu vai su file vai su export vai su lo esporti su desktop lo salvi come file di testo e vai a scrivere msinfo loglog.txt desktop e fai salva uscirà così un caricamento a me ci ha messo più o meno un minuto una volta fatto il caricamento mi è uscito questo file eccolo qua tutto quello che c'è nel mio pc quindi in questo caso noi andiamo un attimo nella cartella dei documenti quindi vai su documenti scendi fino a giù fino a trovare la cartella my games dovresti averla perché la cartella my games c'è sempre nei documenti come puoi vedere ci sono tutti i giochi a cui ho giocato e ha salvato alcune cache e file del gioco quindi vado nella cartella di rocket league vado su tar game su logs e qui come puoi vedere c'è ci sono le cartelle launch log launch e launch backup quindi in questo caso io avevo già fatto questo metodo quindi quello che devi fare è cliccare sul documento di testo launch questo qua perché quando andate a cliccare su rocket league si va anche a creare questo documento per esempio tu vai a cliccare rocket league si avvia poi si chiude ovviamente si è avviato e quindi ha creato anche questa questo documento quindi tu fai ctrl la su launch lo cancelli e andiamo a mettere tutti quei file che abbiamo esportato msinfo log poi se non dovesse funzionare questo metodo ce n'è un altro quindi andiamo prima a fare questo ctrl la fai copia andiamo su launch e fai ctrl v poi fai file salva con nome e lo chiami ovviamente lo metti nella cartella my games rocket league tag game logs e lo vai a chiamare launch sbaglio a scrivere launch launch log .txt e poi salva e lo salvi in questa cartella ok e fai salva non lo salvo perché ho già l'avevo fatto se non dovesse funzionare torniamo un attimo indietro ci sono le cache del gioco tu vai a cancellare pure queste cache andiamo pure nella cartella di rocket league gestisci apri il percorso file tag game se ci sono delle cache possiamo anche eliminarle e provare ad avviare il gioco ecco eccolo rocket league andiamo un attimo su rocket league compatibilità isabili ottimizzazione esegui questo programma come amministratore modifica impostazione dplv esegui l'overwrite e fai applica e fai ok chiudi tutto puoi anche fare una verifica dei file in questo caso fai la verifica aspetti e poi avvi il gioco se non va quello che ti consiglio di fare è togliere epic games quindi disinstallare epic games e reinstallare il launcher quindi se togli rocket league e vai ad installare di nuovo rocket league sicuramente non andrà quindi ti consiglio di disinstallare direttamente tutto epic games toglierà anche i giochi però dobbiamo pur tentare quindi chiudiamo qua quindi se questo video ti è stato utilissimo su come risolvere il problema di rocket league lascia like iscriviti al canale per altri problemi commenta e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao ciao